Ciao ragazzi, qui è Bicurious che vi parla No, no, ancora non sono Bicurious Ma ci arriverò, ci arriverò Ciao a tutti ragazzi, sono Vales E come avete visto dall'intro Cazzo, suonano il citofono, suonano il citofono Ok ragazzi, sono ritornato, scusate che è suonato il citofono Giusto mentre sto registrando, suona il citofono Comunque ragazzi, come avete visto dalla clip iniziale Che in realtà era Bicurious Perché Bicurious? Che cazzo c'entra Bicurious con me? Perché ragazzi, io, vi ricordate che io tipo A marzo ho detto una cosa Che, come dire, ho detto che forse aprimo un altro canale E mi sa che quel forse è diventato realtà ragazzi Quindi sì ragazzi, apro un altro canale E su che cosa sarà incentrato questo canale? Su Creepypasta e curiosità Per questo ho detto che sono Bicurious Perché, tanto per scherzare, ho detto che sono Bicurious Tanto non ci arriverò mai come Bicurious C'ha un milione di iscritti No, no, un milione di iscritti no Però 350.000 iscritti già ce li ha Comunque, niente ragazzi Vorrei appunto fare questo canale Incentrato su Creepypasta e curiosità Quindi le solide classiche curiosità tipo Top 10, Top 5 Dove dico tipo I luoghi più pericolosi del mondo Sti cazzi del mondo Quello che non abbiamo saputo Della NASA Delle stratosferiche esplose Nello spazio Che poi sono andate a sconficcarsi Su Marte nel polmone di Nettuno Quello Ovviamente quando farò quei video del genere Non dirò ovviamente Marte Il polmone di Nettuno Vi devo anche spiegare Cosa sono però le Creepypasta Perché per chi non lo sapesse Le Creepypasta sono diciamo Dei racconti horror Diciamo che sono leggende Sono dei racconti horror Come per esempio Faccio un esempio tipo Le 10 Creepypasta sul web Oppure le 10 Creepypasta Su Non so Sull'Italia Le 2 Creepypasta sul Belgio La prima Creepypasta sulla Russia Per farmi l'esempio ragazzi Comunque sono dei racconti horror E sono delle leggende ragazzi Comunque Quindi in questo canale Vorrei fare questo Creepypasta è curiosità Quindi ragazzi Il canale si chiamerà Vales Creepy Curious Quindi iscrivetevi a questo canale Vales Creepy Curious E Dovrà uscire il primo video Credo a breve Comunque Non so ragazzi Se riuscirò a mettervi il link In descrizione Voi in caso Scrivete su Youtube Come ho detto io Vales con la più grande Creepy Curious Come l'ho scritto io Probabilmente qua sotto Quindi ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al VJPay Condividete Fatelo sapere a tutti i vostri amici Mi piace Cione Come al solito E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti Che cosa cazzo significa Creepy?